La sovrintendenza dei beni storici, artistici e monumentali d'Abruzzo ha emesso il suo parere positivo per il progetto di miglioramento sismico di Palazzo Pretorio. Si tratta di un passo in avanti per la riapertura dello storico edificio, ex sede del Centro Sociale Anziani. La notizia è arrivata dall'assessore comunale Stefano Goti. L'iter burocratico prevede ora la presentazione e l'approvazione in giunta comunale di un progetto definitivo. A quel punto, spiega l'assessore Goti, il comune di Sulmona potrà seguire due strade. Indire un bando pubblico con il progetto definitivo integrato o affidare l'incarico a un progettista, ottenendo da quest'ultimo un progetto esecutivo e andare in gara. Sono valutazioni che faremo fra qualche giorno, aggiunge l'assessore, che ribadisce come il mese di ottobre porterà molte novità a Sulmona per quanto riguarda la riapertura delle opere pubbliche. Nella rubrica sociale Un Occhio per Tutti di Onda TV aveva già annunciato che proprio a fine mese potrebbero essere riconsegnate alla città l'ex convento di Santa Caterina e l'auditorium della Santissima Annunziata. Per il recupero del Palazzo Pretorio, il comune di Sulmona ha stanziato una somma di 1.600.000 euro, due le ipotesi più gettonate per quanto concerne la destinazione e la valorizzazione dell'edificio. Un centro cinematografico, grazie ai fondi fassi del colettore turistico, e un museo storico, derivato alla giostra cavalleresca di Sulmona.